Amici dello sportello del cittadino, siamo a Marina di Lizzano, provincia di Taranto, siamo sul litorale, una zona splendida, meravigliosa, un sole che bacia la sabbia e bacia le acque, quindi una bellezza naturale immensa, però tanto tantissimo degrado, proprio tanta incuria da parte dell'amministrazione comunale nella pulizia appunto del litorale, è davvero un qualcosa di assurdo, di incredibile, sono ripeto le 10 del mattino, abbiamo della vigilia di Ferragosto, giorno 14, abbiamo iniziato le riprese un'ora fa, c'erano per così dire quattro gatti, ancora non era arrivato nessuno in spiaggia, quindi non si può dire che i bagnanti che sono giunti hanno sporcato, no, i bagnanti ancora non sono arrivati, evidentemente nell'opera di pulizia di bonifica, quell'opera non è stata realizzata come si deve, visto che i rifiuti che risalgono a ieri o a giorni precedenti sono ancora lì e non sono stati rimossi, quindi non diamo colpa ai cittadini questa mattina, è davvero grave perché siamo alla vigilia di Ferragosto, quindi un'occasione enorme per promuovere il nostro territorio e come accogliamo i bagnanti? Con le bottiglie di plastica, con le bottiglie di vetro, con le buste, con tanta sporcizia, questo la dice lunga, su quella che è una scarsa capacità amministrativa, a mio avviso, da parte di questa amministrazione comunale, da parte del sindaco Doria, da parte del vice sindaco Morelli, peraltro titolare della delega all'ambiente, alla ecologia. Tante belle parole in campagna elettorale, tante promesse e poi alla fine, nel momento in cui si amministra, si fallisce miseramente, non si riesce a far sì che il litorale lizzanese sia degnamente pulito. I cittadini poi valutano e le immagini parlano da sole. Queste immagini risalgono allo scorso anno, proprio alla vigilia del Ferragosto. Guardate con quanta precisione e con quanta professionalità era stata realizzata la pulizia degli arenili, una differenza davvero abissale rispetto allo scempio di quest'anno. Per concludere, caro sindaco Doria, caro vice sindaco Morelli, basta, la campagna elettorale è finita, forse non ve ne siete resi conto. Ora dovete fare i fatti e i fatti dicono che qui, Marina di Lizzano, alle 10 del mattino, la vigilia di Ferragosto è un porcile. Valutate voi, cittadini lizzanesi, e più di qualcuno sicuramente si pentirà amaramente di aver votato questa amministrazione. Meditate lizzanesi, meditate.